Buongiorno Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, mercoledì 30 settembre, si venera a San Girolamo. San Girolamo, al secolo Sofronio Eusebio Girolamo, è stato un monaco, scrittore, padre e dottore della Chiesa latino, famoso soprattutto per la vulgata, la sua traduzione in latino della Bibbia. Girolamo, grandissimo uomo cattolico e profondo conoscitore della legge sacra, maestro dei cattolici e modello esemplare di costumi nel mondo, ha esposto meravigliosamente e difeso efficacemente la dottrina cattolica intorno ai libri santi, fornendo un insieme di insegnamenti di altissimo valore per esortare tutti i figli della Chiesa, e specialmente i membri del clero, al rispetto, alla lettura devota e all'assidua meditazione delle scritture divine. Il rigore morale di Girolamo era decisamente favorevole all'introduzione del celibato ecclesiastico e all'eradicazione del fenomeno delle cosiddette agapete, delle vergini cristiane, che individualmente consacravano la propria vita a Dio con un voto di castità e conducevano vita in comune con ecclesiastici che possedevano il celibato. Per questo San Girolamo non era ben visto da buona parte del clero, fortemente schierato su posizioni giovinianiste. Morì nel 420, proprio nell'anno in cui il celibato, dopo essere stato lungamente disatteso, venne imposto al clero da una legge dall'imperatore Onorio. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo, dai siti della Repubblica e del Corriere della Sera. Iniziamo con La Repubblica, quindi dal sito larepubblica.it, che oggi apre con Renzi all'ONU, pronti a ruolo guida in Libia, migranti, il problema è la paura, non i numeri. Isobama sono circondati, li sconfiggeremo, aperti a collaborazione con Russia e Iran, resta contrasto su Assad. Ed ancora andiamo in basso, Senato, Grasso, Boccia, Calderò, gli emendamenti sono irrecivibili, Salvini, Presidente, si vergogni. E nel video riportato sulla Repubblica, la reazione sul volto del leghista. Ed ancora migranti, risorsa della vecchia Europa, senza nuovi lavoratori, industrie a rischio. L'Ox, entro il 2020, la popolazione in età produttiva calerà di 7,5 milioni di unità. Monsignor Paglia a Zanzara, Papa Furibondo, nell'audio, ecco la telefonata del finto Renzi. Il Movimento 5 Stelle apre il caso rimborsi. Ferrari lancia Ipo venerdì, offerta da un miliardo di dollari. FCA usa discrepanze sui reclami. Volkswagen richiamerà 11 milioni di auto, Müller sostituire software incriminato. L'annuncio della DI Manager, costo di 6,5 miliardi. Ed ancora, vogliardi politici e capitani coraggiosi, il folle banchetto che spolpò all'Italia. Le condanne a Cimoli e Mengozi riassumono la malagestione dell'era Berlusconi-Fini-Tremonti. Ponte sullo stretto, scontro nel governo, NCD, valutiamo riconversione ferroviaria. Lo stop di Del Rio non è sul tavolo. Così Alfano rilanciò la grande opera. Bollette a ottobre scattano gli aumenti, più 3,4% per l'elettricità e più 2,4% per il gas. Nonostante i rincari, la famiglia media nel 2015 risparmierà 60 euro rispetto al 2014. Ed ancora prezzi che non calano e bollette pazze. Il libero mercato elettrico ha fatto flop, così tasse e pasticci frenano la concorrenza. 100.000 euro di conguaglio senza lettura ai consumatori, contatori tutti fuori legge. I social network della cannabis, così l'erba si compra online, boom di start-up per i consumatori e per chi ne ha bisogno per curarsi. Messo fuori dalla classe perché gay la denuncia dei genitori di un 16enne a Monza, il preside, volevo tutelarlo, ha dichiarato. Ed ancora in breve, Puglia, legano un disabile all'albero col nastro adesivo e postano la foto su Facebook e caccia ai bulli. Le parole di Anzaldi, come l'editto bulgaro, i giornalisti del Tg3, contro il deputato Dem. Ed ancora, Clerici, il tennis mi ha insegnato che l'avversario ero io stesso. In un'autobiografia il giornalista racconta la passione di una vita che lo ha portato anche ai vertici dello sport agonistico. Stefano Benni rifiuta il premio del governo, troppi tagli alla cultura, non c'è da festeggiare, ha dichiarato. Ed ancora, USA sarà giustiziata, malgrado appello del Papa, donna condannata a morte per l'omicidio del marito. L'esecuzione è stata rimandata. Cooperante italiano ucciso in Bangladesh, no prove che sia stato IS, allerta Farnesina, massima prudenza, IS insegnava ai contadini. Vediamo adesso invece le notizie riportate dal Corriere della Sera sul sito ilcorriere.it. Vediamo come apre e con quali notizie rispetto appunto alla Repubblica. Corriere della Sera che apre uguale alla Repubblica, quindi l'intervento. Renzi all'ONU, l'Italia pronta a ruolo guida in Libia, Obama, l'ISIS è circondato. Il premier italiano è l'appello per i migranti, Europa nata per abbattere i muri, Obama, brindisi con Putin. Questo è grande davvero il califato. E poi ancora i disertori di ISIS. Ed ancora vediamo la mozione del nuovo centrodestra. Ritorna il ponte sullo stretto, ma solo per i treni. E dopo l'intervista al Corriere, il PD e gli attacchi a Rai 3, Grillo accusa loro come Goebbels, idem, linciaggio inaccettabile. E vediamo ancora tra le notizie il viaggio negli USA del sindaco di Roma, il fuorionda di Monsignor Paglia, Papa Furibondo, Marino si è comportato da Bischero. Corriere TV a Buffone, sei il peggior sindaco, Marino contestato ad Ostia. Un piccolo gruppetto di persone lo hanno appunto contestato. Marino tarda e la banda municipale suona My Way. La riforma in aula, Senato, la tagliola di grasso sulla Lega, emendamenti irrecevibili per leggerli, 17 anni, Ira Salvini. La rapina a Luca, arrestato il lama poliziotto Digos, autore di un colpo al market, il bottino, 3.990 euro, autore di libri, in passato si era occupato anche di antiterrorismo. Vediamo ancora Stati Uniti, la notizia della donna in Giorgia, inutile l'appello del Papa, condannata a morte una 47enne, elezione letale appunto per la donna, accusata per il delitto del marito, nello Stato del Sud non accadeva da 70 anni. Volkswagen, il richiamo, costerà 6,5 miliardi, 11 milioni di auto da ritirare, il governo evitare disastro per dipendenti del gruppo. Wall Street, Ferrari accelera, la quotazione è pronta offerta da un miliardo, queste sono le indiscrezioni, ed ancora la crisi popolare Vicenza, nel piano 500 esuberi e chiusura di 100 filiali, i vertici indagati da la procura di Vicenza. I dati dell'ABI, casa, boom mutui nel 2015, più 86%, salgono i prestiti alle imprese, luce e gas da ottobre. Gli aumenti, quindi come abbiamo visto anche prima, sulla Repubblica, secondo i dati dell'ABI, nei primi 8 mesi del 2015, i prestiti alle imprese sono aumentati del 15,9%, le nuove erogazioni di mutui superano quelle dell'intero 2014. comprare casa, sei mosse per non sbagliare, viene riportato sul Corriere, ed ancora mutui, sette cose da sapere prima di andare in banca. Monza, studente fuori dalla classe perché gay, il preside volevo tutelarlo, la denuncia dei genitori, il 16enne di un istituto cattolico punito, perché aveva postato online una foto Ose insieme a un altro giovane. L'arcigay, un fatto gravissimo, intervenga il MIUR Roma, gay, insultato e preso a pugni per strada, nessuno lo ha aiutato. Ed ad Andri, allegato all'albero col nastro, la foto su Facebook, caccia ai bulli, ecco la foto notizia, l'uomo con problemi psichici, immobilizzato col nastro adesivo, il sindaco, è un fatto gravissimo. Milano, il TAR, dà ragione a Pisa Pia, sì, alla trascrizione delle nozze gay, i giudici amministrativi bocciano la circolare di Alfano, che ordina ai prefetti di annullare la ratifica delle unioni celebrate all'estero. Ed ora vediamo ancora l'Assemblea delle Nazioni Unite, ONU, conosci davvero tutti i potenti della terra? Questo è il quiz proposto dal Corriere, si sono incontrati al Palazzo di Vetro a New York, per parlare di Siria, e voi sapete riconoscere appunto i volti degli uomini e delle donne, che governano il mondo. Uno studio italiano sulla SLA, una terapia sperimentale a proda, alla seconda fase di test, a base di staminali etiche e risposte positive, occasionali senza alcun effetto collaterale, nel 2016 via la fase sperimentale su 60-80 volontari. Onorificenza al Valor Civile, Quirinale, medaglia d'oro all'Ucraina, ucciso dai rapinatori del supermarket, il muratore, nella foto, fu ucciso il 29 agosto da due fratelli, reagì contro i rapinatori in un supermercato di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Ed ancora Bangladesh, cooperante ucciso, non ci sono prove su ISIS, il mistero, appunto, il ministro, scusate, bengalese, sul lagguato a Dacca, dice, chiede prudenza sull'identità degli assassini, l'autopsia intanto ha fatto notare che è stato freddato, è stato freddato, insomma. E adesso torniamo invece, passiamo dal Corriere, dalla Repubblica all'edicola, vediamo oggi il messaggero come apre, con quali notizie, restiamo appunto sempre sulle notizie nazionali e dal mondo. Vediamo oggi il messaggero in apertura, riporta le riforme appunto al voto, vediamo ecco la prima pagina, riforme al voto, tempi a rischio, in aula il DDL sul nuovo Senato, inamissibili milioni di emendamenti, ma ne restano 385 mila e di nuovo tensione tra Palazzo Chigi e Grasso, incognita sul numero dei voti segreti, consentiti. Ed ancora in centro pagina, la fotonotizia Volkswagen, il richiamo costerà 16,5 miliardi, la catena di montaggio, qui nella foto, di una fabbrica appunto della Volkswagen, ritiro per 11 milioni di auto, tutti gli effetti sui conti italiani. In breve l'intervento all'ONU, Renzi pronti a ruolo guida in Libia, Obama, Putin, niente intesa su Assad. Ed ancora a casa, il monito di Banca Italia, togliere la tassa per sempre, boom dei mutui, più 86%, evitato l'aumento della benzina. Primo sì, ancora in breve, ma governo diviso, sul ponte, sullo stretto, solo per i treni, torna il dibattito su costi e benefici. Vediamo nel taglio basso, in apertura, il vescovo marino imbucato, Papa Furioso, ed ancora le linee guida del decreto, così cambia il viminale, meno prefetti, chiuse 23 questure, tagli al personale. Entriamo all'interno del messaggero, quindi in primo piano, Siria contro l'Isis, asse Russia-USA, ma non c'è accordo sul futuro di Assad. L'ipotesi di raid congiunti, Mosca collaborazione, non coalizione, Obama, iadisti circondati, li piegheremo e vediamo nel sommario, la Casa Bianca sembra accettare l'idea di un'uscita di scena non immediata del presidente siriano. Vediamo in basso la guerra spaccatura tra le forze antigovernative, così avanzano le truppe di Damasco, sul campo comincia a sentirsi anche il peso degli aiuti non ufficiali inviati in Siria dalla Russia. Ed ancora il reportage Renzi, la missione ONU in Libia, Italia pronta a un ruolo guida, una coalizione così non si è mai vista, vinceremo la guerra contro il terrore, il discorso, le Nazioni Unite e l'allarme sui social network servono per reclutare. Vediamo ancora, sempre in primo piano, Banca Italia, il taglio delle imposte, sulla casa deve essere permanente, solo una riduzione strutturale può spingere i consumi, abbi nei primi otto mesi mutui cresciuti dell'86%, la pressione fiscale è troppo alta, danneggia l'economia, ma la scelta dei tributi da ridurre è di tipo politico. E vediamo ancora nel taglio basso, aumento della benzina, rinviato quindi al 2016, rientro dei capitali, incassati 1,5 miliardi, via libera del Consiglio dei Ministri, Orlandi, possibili altri introiti con la proroga. Vediamo ancora pensioni, il governo accelera, nodo dei costi sulla flessibilità, oggi probabile vertice Palazzo Chigi, due ipotesi per rivedere la legge Fornero. Boeri, sempre più pensionati, si spostano all'estero da tagliare gli assegni assistenziali. E nel sommario vediamo, valgono 3 miliardi i contributi pagati da stranieri che non hanno diritto a percepire trattamenti. Nel taglio basso statale, firmato il decreto per la mobilità, Madia, contratto dopo la manovra. e nella foto appunto il Ministro Marianna Madia. Ad ancora, vediamo sempre in primo piano, riforme, stop a milioni di emendamenti, oggi al via le votazioni, Grasso dichiara irricevibile, la maggior parte delle modifiche di Calderoli, ne restano comunque 383 mila, proteste limitate in aula, leghista cita il Marchese del Grillo, a prensione nella maggioranza per i tempi di approvazione. E' questo il grafico in centro pagina, su appunto la riforma del Senato. La minoranza Dem non ritira le sue proposte, pizzetti dalle scelte del Presidente, dipende la tenuta dell'intesa. E il centrodestra Berlusconi offre sponda a Calderoli, l'obiettivo è disinnescare Salvini. Ancora allarme sui tempi, gelo di Renzi su Grasso, Senato alta tensione tra il Premier e la seconda carica dello Stato, ha sbagliato, rischio slittamento a dopo la stabilità in aula dal 15. Pesa anche l'incognita sui voti segreti che il Presidente è pronto a dare, resta l'emendamento renziano, sull'abolizione totcorte. Vediamo nel sommario, se il DDL andasse a dopo la manovra, salterebbe il referendum già messo in agenda per la primavera. Ed ancora pizzetti, valutare articolo per articolo, come vorrebbe Pietro, è un freno all'intesa politica complessiva sulle appunto modifiche. Vediamo ancora, sempre in primo piano, il caso Papa Furibondo con Marino, telefonata rubata al Vescovo, Monsignor Paglia risponde a un finto Renzi alla Zanzara, sindaco imbucato. Padre Lombardi però dichiara chiuso il caso viaggio, USA, non servono chiarimenti, ha dichiarato. Invece sindacati e Movimento 5 Stelle all'attacco, scontro PD, di Rai 3, nuovo editto bulgaro. Andiamo ancora avanti, torna il ponte sullo stretto, ma varrà solo per i treni, via libera alla mozione, a Pi Governo disposto a valutare l'infrastruttura, Alfano esulta, il sud riparte, del rio però frena, abbiamo cose più urgenti, ha dichiarato. E sul ponte appunto, se ne parla fin dagli anni 50, ma nel 2013 la società realizzatrice, è stata liquidata. L'analisi, troppi pregiudizi, le sorprese del rapporto costo-benefici, lo Stato ha già sborsato 300 milioni, e sullo sfondo c'è un sud che vuole uscire dalla crisi. Ed ora vediamo, invece, nelle cronache, il Viminale riforma il via, meno prefetti e dirigenti, nel DPR fissate le linee guida, tagliate 23 prefetture, 23 questure, e 6 vice direzioni. Arriva un tetto, alla dotazione organica complessiva, di tutto il personale civile, e questo è il grafico appunto. Sempre nelle cronache, omicidio Tavella, dubbi sulla pista Isis, per le autorità non è ancora chiaro il movente dell'attacco, ma resta l'allarme e terrorismo, per i cittadini italiani all'estero, allerta degli Stati Uniti, rischio elevato per gli americani, in Bangladesh la Farnesina, evitate di spostarvi a piedi. L'autopsia sul delitto, conferma la dinamica anomala dell'attentato, colpito da vicino, un agguato senza simboli, comunque iadisti. Il caso, vediamo in breve, il colonnello faceva sparire i buoni pasto, degli impiegati, è successo a Roma, l'ufficiale della finanza, ne avrebbe raccolti 160 mila due anni fa, era stato anche nominato commendatore. Ed ora, ancora nelle cronache, quando la scuola respinge i bambini un anno avanti, le regole di iscrizione nelle elementari più ambite, spesso penalizzano gli alunni precoci. Il governo potrebbe affrontare il tema, con la delega per l'istituzione, nella fascia da 0 a 6 anni. E la storia, messo fuori dalla classe, perché gay a Monza, protesta dei genitori di un alunno in una scuola cattolica, il preside, caos per una foto, lo abbiamo tutelato. ha dichiarato. E la polemica dalla Svizzera, accuse a il volo, camere d'albergo, devastate l'hotel denuncia, imbrattate di feci le pareti della stanza, il gruppo smentisce e annuncia querela. E vediamo adesso la prima pagina dedicata all'economia, quindi Volkswagen richiama 11 milioni di auto, così come abbiamo visto anche sulle altre testate. Il numero 1, Nuller incontra il top management e lancia il piano d'emergenza. Entro ottobre gli interventi sulle vetture. La Spagna blocca la vendita di 3.000 auto, Euro 5, e sollecita Wolfsburg a restituire 1.000 euro per ogni acquisto incentivato. E il punto in tutta Italia ha solo due centri autorizzati alle verifiche. Nel sommario, infine, i soli costi tecnici dell'operazione potrebbero assorbire per intero i 6,5 miliardi già accantonati dal CDA. Infine, nel taglio basso, gli effetti, Banca Italia, l'impatto sull'economia è da verificare. Il vice direttore generale, Signorini, incertezza più grave sul mercato in Italia a rischio, 1,5 miliardi di indotto. E con la pagina dedicata all'economia del messaggero, ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni De Palma, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, quali sono gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni? Diciamo che come avevamo annunciato nei giorni scorsi, il tempo è in peggioramento sulla nostra regione perché si avvicina un'intensa perturbazione attualmente posizionata sulle Baleari che nelle prossime ore raggiungerà dapprima la Sardegna dove poi provocherà episodi di intenso maltempo e poi coinvolgerà marginalmente anche le restanti regioni centrali. Quindi nelle prossime ore assisteremo alla presenza di nuvolosità più o meno compatta sul settore orientale, quindi lungo la fascia costiera, sulle zone collinari e sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante Adriatico con possibili deboli precipitazioni. Questo perché la perturbazione in arrivo richiamerà masse d'aria fresca provenienti dai vicini balcani che scorrendo sul mare Adriatico favorirà appunto la formazione di questi annuvolamenti. Iniziali condizioni di cielo poco nuvolose invece sulla Marsica e nell'Aquilano ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio e il tardo pomeriggio con possibilità di precipitazioni poi in estensione verso il settore orientale della nostra regione perché questa perturbazione che si avvicina sulla Sardegna favorirà lo spostamento di sistemi nuvolosi anche sulla nostra regione. Poi domani avremo una giornata tipicamente autunnale con cielo nuvoloso, molto nuvoloso e precipitazioni un po' su tutto il territorio regionale. Precipitazioni più frequenti però sulle zone montuose e sulle zone collinari che si affacciano sul versante Adriatico. Anche nella giornata di venerdì continueremo ad assistere alla presenza di annuvolamenti con delle precipitazioni poi però c'è da dire che nel fine settimana con tutta probabilità assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampie scarite ma non mancheranno comunque ancora degli annuvolamenti insomma non torna l'alta pressione anche perché poi nella giornata di venerdì con tutta probabilità se le analisi saranno confermate assisteremo a un nuovo peggioramento del tempo a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica stavolta piuttosto veloce che da martedì poi dovrebbe lasciare spazio a un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche quindi una situazione dinamica questa Elisa perturbazioni che si susseguiranno anche nei prossimi giorni con temperature al momento ancora di sotto delle medie stagionali ma poi nel fine settimana è previsto un graduale aumento delle temperature Elisa bene grazie Giovanni grazie ti auguro una buona giornata e soprattutto buon lavoro grazie Elisa una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 io ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it e abruzzometeo.org potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo facebook di Abruzzo Meteo così come possiamo vedere in grafica e attraverso il profilo facebook personale di Giovanni De Palma potete così postare commenti, porre domande insomma essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria tra poco seconda parte di mattino 6 continuiamo con la nostra rassegna stampa passiamo alle notizie regionali vediamo il centro e le prime pagine delle quattro edizioni vediamo l'edizione dedicata alla provincia di Pescara arrestato rapinatore giornalista attenta all'assalto al Todis tradito dalle telecamere altro colpo all'Eurospin in centro pagina la fotonotizia William e Kate scrivono una lettera regale agli studenti del Ravasco la sorpresa in classe a Pescara ed ancora in basso ammazzato a calci e pugni San Salvo la vittima un romeno di 46 anni arrestato l'amico nelle cronache elettrodotto contestato niente spropri ora Terna chiede i soldi in Pescara minaccia e insulti al giudice spaccata l'auto ed ancora in Pescara mare sporco c'è un secondo indagato l'ordinanza fantasma vediamo ora la prima pagina invece del centro dedicata alla provincia di Chieti Lanciano e Vasto vediamo come apre oggi picchiato a morte arrestato l'amico omicidio a San Salvo la lite è venuta fuori da un casolare abbandonato in centro pagina Lanciano manca il personale all'ospedale Renzetti aperta la nuova sala ecografica ma per operarsi due anni di attesa in basso tassati tutti i passi carrabili chieti i proprietari avranno il tempo di tempo fino al 30 novembre e nelle cronache torna quindi l'elettrodotto contestato ed ancora in basso crolla il palco dieci coristi in ospedale durante la festa di San Michele in Ortona sequestrato il depuratore di Arielli il blitz della forestale passiamo ora la prima pagina dell'edizione dedicata alla provincia di Teramo Teramo vediamo che apre con narcotizzati e derubati in casa isola vittime tre famiglie imparentate tra loro spariti denaro e ori in centro pagina fino a domenica a San Gabriele al via raduno mondiale delle suore passioniste di clausura e in basso torna San Salvo appunto ammazzato a calci e pugni la vittima romeno di 46 anni nelle cronache in Pineto non picchiò gli alunni maestra assolta questa è la sentenza in Teramo la piscina comunale riapre a novembre dopo i lavori e invece nello sport il Teramo torna in campo ad Ancona stasera il recupero vediamo l'ultima edizione quella dedicata alla provincia di L'Aquila quindi Avezzano e Sulmona vediamo il centro come apre muore in casa a 25 anni si indaga l'Aquila i vicini del progetto case l'hanno vista l'ultima volta sei giorni fa in centro pagina la banda del buco beve il caffè e fugge con 200 paia di scarpe a Cappelle dei Marsi colpo grosso al Globo e qui torna la notizia di San Salvo in basso invece nelle cronache torna l'elettrodotto appunto contestato quindi Terna chiede i soldi in L'Aquila precari salta la proroga dei contratti e sempre in L'Aquila l'ospedale tagli le liste d'attesa interminabili ed ora passiamo invece al quotidiano della provincia di Teramo la città vediamo l'apertura di oggi e quindi passiamo al quotidiano appunto della provincia di Teramo la città che apre con la cronaca minaccia la fidanzata della figlia padre omofobo a processo per aver tentato di interrompere la relazione tra le due studentesse universitarie in centropagina caccia di Marziani Marte anche con l'Urania in prima linea nella ricerca NASA ed ancora chiusa la palestra dello scientifico niente educazione fisica la provincia ordina una verifica lasciamo la prima pagina entriamo all'interno vediamo le notizie dalla regione quindi la pagina dedicata alla regione emergenza credito e fisco per le piccole medie imprese abruzzesi con fartigenato erogazioni in calo del 7% in un anno Abruzzo al penultimo posto nella classifica nazionale e quindi su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video quindi Teramo Maglia Nera nella provincia di Teramo si registra un calo e per quanto riguarda l'accesso al credito le fiscalità queste le criticità delle imprese artigiane denunciate da confartigianato che chiede alla regione un impegno per la risoluzione dei problemi vediamo il contributo video di Paolo Renzetti la situazione non è delle più rose per quanto riguarda il credito nei confronti delle imprese artigiane noi se le cediamo il governo regionale affinché possa dare una mano possa riuscire a valorizzare le imprese artigiane tramite il credito un credito sempre più difficile insieme alle tassazioni che in questo momento la regione continua ad aumentare nei confronti di tutti le prospettive di credere e di dare una mano forte agli artigiani al mondo imprenditoriale tutto dalla costa all'interno un interno spesso anche abbandonato un interno che ha esigenze maggiori vista la gravità che ha avuto con il terremoto accesso al credito per le imprese artigiane abruzzesi ci sono dei problemi voi vi rivolgete soprattutto alla regione abruzzo si ci rivolgiamo alla regione che sono sette anni in cui abbiamo un dato fortemente negativo per quanto riguarda l'erogazione del credito alle imprese quindi abbiamo la necessità di sbloccare i fondi della vecchia programmazione per destinarli subito alle politiche di accesso al credito e su questo ci sono già dei bandi aperti quindi la regione può intervenire immediatamente e soprattutto così possiamo scongiorare di dover restituire alla comunità europea i fondi della vecchia programmazione quindi sicuramente è un segnale importante che a parole è stato annunciato dalla regione ma adesso non è più tempo delle parole è tempo di arrivare ai fatti purtroppo c'è la crisi c'è una fiscalità come abbiamo detto oggi con dei dati poco confortevoli per la nostra regione quindi dobbiamo far sì che la regione torni ad essere una regione attraente per fare questo sicuramente bisogna ridurre la pressione fiscale dobbiamo anche qui scongiurare nei prossimi mesi si potrebbe paventare un aumento della tassazione regionale quindi nel modo più assoluto noi facciamo un appello al governatore D'Alfonso affinché questo non accada ed ancora vediamo l'Aqui la ragazza trovata morta in casa la vicina non la vedeva da sei giorni l'allarme scattato dopo che un cattivo odore è iniziato ad uscire dall'abitazione sempre cronaca crolla il palco durante il concerto dieci feriti tra i ragazzi del coro a vasto andiamo ancora avanti padre omofobo minaccia la ragazza della figlia 50enne pugliese cerca di interrompere il rapporto tra le due studentesse universitarie con sms e telefonate il processo ieri mattina al tribunale di Teramo prima udienza per il padre accusato di minacce da una teramana l'evento vediamo le monache di clausura di tutta Italia a congresso a San Gabriele 40 religiose rappresentanza di 350 monasteri di 4 continenti riuniti per aprire una finestra sul mondo l'eccellenza di unite solo a Teramo c'è l'ospedale per gli animali i fondi per acquisire buona parte delle attrezzature come vediamo nelle foto sono stati utilizzati i fondi del piano nazionale per il sud Italia ed ancora la piscina acquaviva riaprirà entro novembre con 50.000 euro sarà ripristinata la funzionalità minima siamo a Teramo ma servono quasi 2 milioni per i lavori strutturali ed ancora giallo sulla chiusura della palestra l'Einstein il liceo appunto scientifico di Teramo niente educazione fisica in attesa di conoscere eventuali problemi di sicurezza le famiglie disorientate vogliono sapere il motivo ieri è arrivata l'ultima fornitura di banchi per il liceo delfico che aveva protestato con una lezione all'aperto ed ancora Braga nessun segnale dal ministero silenzio sui fondi del salvataggio ponte ma per Bartolini del partito democratico basterebbe solo cercarli ambiente urbano legambiente ha ripulito la fonte del noce è appunto sempre in Teramo in occasione della campagna mondiale clean up the world ed ancora la novità inaugurata la casetta dell'acqua in piazza Progresso a San Nicolò a Tordino liscia o gasata alla spina ma è del ruzzo ed ancora Piazza Garibaldi fa un'altra vittima sulle strisce pedone investito da una smart mentre attraversa la strada il punto è tra i più critici del traffico ma non si vede una soluzione ed ancora vediamo provincia i rifiuti facciamoli gestire a ruzzo il sindaco di Castellalto cita il modello in house come soluzione per la gestione pubblica degli impianti di smaltimento il tavolo intanto lunedì scorso l'incontro in provincia per lanciare il progetto del gestore pubblico dell'impiantistica nel taglio basso vediamo l'Aquila anche la regione ricorrerà contro il fallimento del CIRSU il governatore Luciano D'Alfonso incontra i sindaci del consorzio e conferma il pieno appoggio all'appello appunto e su questo articolo abbiamo il contributo video vediamo fallimento CIRSU quindi i sindaci minacciano come abbiamo letto battaglia il contributo video è di Daniela Braccani minacciano battaglia i sindaci dei comuni soci di CIRSU il consorzio intercomunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani in fallimento secondo quanto decretato dal giudice fallimentare del tribunale di Teramo si rischia il blackout come in campagna sentenziano alcuni dei sindaci dei comuni interessati Bellante Morrodoro Notaresco Musciano Giulianova e Roseto in occasione dell'incontro a porte chiuse con il presidente della regione Luciano D'Alfonso convocato oggi a Palazzo Silone siamo pronti ad impugnare la sentenza di fallimento davanti alla corte d'appello dell'Aquila tuonano gli amministratori locali favorevoli alla gestione d'emergenza del pubblico servizio che non può assolutamente essere interrotto altrimenti il rischio è quello di conferire la spazzatura direttamente nelle strade oppure di tornare al turismo dei rifiuti conferiti fuori regione Noi come comuni impugneremo l'atto di fallimento abbiamo dato mandato e stiamo dando mandato a un legale di costituirsi per impugnare autonomamente come comuni l'atto di fallimento l'abbiamo chiesto anche al presidente della provincia lo chiederemo anche al presidente della regione per la valenza che ha il polo del CIRSU che nel piano regionale dei rifiuti rappresenta il 50% della capienza ed è l'unica di scarica pubblica Un altro argomento da trattare in regione è quello sulla costituzione di un tavolo tecnico per esaminare gli aspetti riguardanti le autorizzazioni in capo a CIRSU in particolare quella relativa al nuovo invaso quasi pronto da 5.000 metri cubi un argomento questo che potrebbe riaprire il dibattito sul consorzio unico provinciale siamo fiduciosi nella richiesta avanzata ai curatori fallimentari di continuare nella gestione provvisoria cioè il contratto in essere si continui a svolgere il servizio perché è un'interruzione di pubblico servizio di valenza pubblica provinciale ma anche sovra provinciale perché si tratta di una struttura di piano regionale dei rifiuti quindi l'interruzione sarebbe una cosa fuori dalla norma Restiamo ancora sul quotidiano della provincia di Teramo andiamo avanti il convegno burocrazia e fisco frenano l'agricoltura ospiti illustri ieri mattina l'incontro organizzato da Confagricoltura nel centro Elton di Banca dell'Adriatico a Teramo a San Nicolò a Tordino ospiti illustri così come abbiamo letto dal titolo vediamo anche su questo articolo il contributo video La finalità e l'obiettivo principale del convegno di oggi cosa ci si aspetta? Ci si aspetta una discussione franca Confagricoltura è ovviamente come altre organizzazioni attenta all'applicazione di questa nuova politica agricola comune siamo nelle prime fasi ricordiamo che è entrata in vigore il primo gennaio 2015 luce ed ombre quindi preoccupazioni nella fase applicativa di questo greening che sicuramente ci è servito moltissimo a Bruxelles per tutelare le risorse per difendere le risorse oggi si incomincia a fare già un primo bilancio qualche considerazione sul futuro noi come Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo siamo impegnati alla revisione della PAC per cui per noi questi incontri sono importantissimi e col Presidente Guidi è più di un'occasione stiamo incominciando a mettere assieme le correzioni che poi saranno oggetto di quella mid-term review di quella revisione di metà percorso che il Parlamento si appresta a fare nel 2017 ecco dal nome del convegno qual è l'agricoltura domani qual è la risposta? proseguire sulla strada che stiamo facendo i risultati a livello macro sono buoni l'Italia è arrivata quasi a 40 miliardi di euro di esportazioni siamo diventati il primo paese esportatore negli Stati Uniti per il nostro vino di cui tra l'altro con un protagonismo abruzzese importante quindi la direzione è quella rafforzarci ancora di più dare una mano alle imprese per essere più forti più competitive per aggregarsi perché la qualità da sola non basta ma bisogna essere organizzati commercialmente diciamo questo è il nostro sforzo di andare in una direzione che vede al centro l'impresa e il lavoro è un po' il tema dell'agricoltura che ricordiamolo nel nostro paese è oramai diventato il secondo comparto dell'economia nazionale secondo dopo la meccanica e l'auto superando il test quindi dobbiamo stare molto attenti qui non si tratta di aspetti bucolici ma si tratta di un importante asset dell'economia nazionale ed ancora nel taglio basso a Sergi incontro con il Parco Nazionale per discutere del problema cinghiali il vicepresidente Maurizio Pelosi annuncia nuove iniziative per contenere la specie e cercare di limitare i danni vediamo ancora Lolli annuncia per quanto riguarda la montagna fondi per le stazioni sciistiche il vicepresidente regionale a Castelli e Pietracamela le priorità sono le strade per gli impianti di risalita accompagnato da Pepe e Mariani in serata il vicepresidente della regione è stato prima in Val Vibrata e poi ad un incontro a Civitella del Tronto ed ancora Isola si aggrappa la sua postazione del 118 il comitato crescita comune critico con i tagli ventilati dalla regione Tortoreto fuori le carte sul piano regolatore oggi il consiglio convocato dopo tre mesi di attesa ma la variante non è stata inserita nell'ordine del giorno Valle Castellana annullato lo storico gala del peperoncino la manifestazione avrebbe festeggiato la 22esima edizione ed ancora settimana corta la preside prende tempo riunioni a Giulianova con i genitori alla De Amicis dopo il pronunciamento del Tar intanto a Lido prima campanella funestata da traffico e contravvenzioni cronaca evade dai domiciliari per la seconda volta in un mese lo arrestano di nuovo a Mociano Sant'Angelo ed ancora a Mociano a Mianto nella scuola il comune assicura la situazione è sotto controllo a Giulianova atletica incetta di Poli per l'ecologica Gia al trofeo delle province due primi posti tre secondi posti e due terzi nelle gare che si sono svolte a Pescara Parco del Cerrano Cantarini fa subito i conti in tasca d'Orazio tra i primi provvedimenti del neopresidente il controllo della situazione economica dell'area marina protetta appunto il nuovo CDA accanto a Leona Cantarini siederanno Nerina Alonso Fabiano Aretusi Pietro Palozzo e Marina De Ascentis Roseto ultimo giorno per assistere alla mostra che racconta la storia della cittadina appunto nella pianoteca della villa comunale gli scatti del fotografo Antonio Mazzoni sul lavoro e vita quotidiana il San Liberatore rafforza la medicina nucleare ad Atri D'Alfonso scrive all'ASL per sollecitare ripristino della Camera per le scintigrafie e l'annuncio è di Luciano Monticelli consigliere appunto regionale nella cronaca 17enne di Silvi trovato con 30 gammi di marijuana denunciato ed ora passiamo al torniamo scusate al messaggero vediamo la pagina la prima pagina dedicata alla nostra regione vediamo come come apre eccoci vediamo prima pagina dedicata alla regione Abruzzo dal messaggero eccoci qui quindi vasto crolla il palco del concerto le assi cedono improvvisamente e sei coristi finiscono sul selciato per fortuna solo ferite lievi momenti di paura poi gli spettatori prestano i primi soccorsi prima dell'arrivo di 118 e polizia vediamo ancora sul Mona rinviata alla chiusura del punto nascita Paolucci ma non ci saranno passi indietro intanto Forza Italia attacca lui e D'Alfonso entriamo all'interno vediamo il punto nascita di Sul Mona quindi rinviata alla chiusura prima va allestita una rete efficiente d'emergenza Forza Italia attacca Paolucci il centro Senologia Ortona si conferma al top europeo ed ancora regione legge Bavaglio l'accordo è vicino ma il Movimento 5 Stelle non ci sta compromesso su una norma che cancella ogni forma di democrazia ed ancora vediamo la prima pagina dedicata all'Aquila dopo un mese trovata morta in casa il corpo di una ragazza senza vita è stato scoperto ieri sera in un alloggio del quartiere nel progetto case di Cese di Preturo Pasqualina Bucci 25 anni abitava da sola in via Magnani la vicina non la vedevo da tanto ma c'era un odore terribile lavoro contratti in scadenza al comune il dirigente ha deciso di non firmare innocenzi della CGL una vergogna il sindaco ora deve dimettersi ancora sanità ASL mini proroga di un mese per i precari delibera in extremis dell'azienda per salvare 300 posti andiamo ancora avanti il caso TSA scendono in campo i sindacati chiesto un incontro ai vertici dello stabile abruzzese per capire quali potranno essere le ricadute con pochi fondi ore di sofferenza anche per l'ISA che approda in commissione Febo cultura lo sbando non passeranno gli 800 mila euro luci della città Replace il capoluogo si illumina di nuovo quindi fino al 25 ottobre il centro storico diventa un museo a cielo aperto ed ancora la rinascita del Piero benedice il centro d'aggregazione appoggio Vicenza e la struttura costruita grazie alla partita del cuore in breve la protesta internet in tilt 500 utenze senza DSL ed ancora le spine emergenza cinghiali si devono abbattere archeologia aeroporto l'enac stop al potenziamento vediamo ancora Marsica prodotti e territorio il fucino sbarca a Milano i tesori dell'ex lago in casa Abruzzo un lungo viaggio della memoria Valle Roveto nel Mirino la gestione delle acque sul Mona col center 3G a rischio in bilico 102 dipendenti entro oggi dovranno decidere se andare in mobilità volontaria ad Avezzano 30 anni accoltellato tre rumeni a processo ed ancora sul Mona prendeva la pensione della madre morta assolto Pescara il prefetto media il consiglio riprende giovedì 1 ottobre si parlerà del mare inquinato mentre il giorno dopo si discuterà del piano di riequilibrio il centro destra non si arrende indosseremo le magliette Movimento 5 Stelle prende le distanze da destra e sinistra basta pagliacciate la cerimonia con l'omaggio ai caduti della polizia il debutto pubblico di Paola Iaci nella ricorrenza di San Michele la deposizione della corona insieme al questore Paolo Passamonti ed ancora la politica in movimento giovani e tessere il PD si rinnova campagna d'autunno e volti nuovi annunciati dalla segreteria provinciale Francesca dalla segretaria scusate provinciale Francesca Ciafardini andiamo ancora avanti sempre Pescara Fater all'avanguardia per gli assorbenti i segreti del successo porte aperte ieri allo stabilimento di via Raiale illustrati i piani di ricerca e sviluppo lettera del ministro Lorenzin supermercati nel mirino rapinatore tradito dalle telecamere messo in fuga dalla cassiera finisce in manette nella notte si indaga sul colpo fotocopia di poche ore prima quindi ha volto un nome intanto il rapinatore che ha tentato appunto di svaliggiare il supermercato Todis di San Buceto è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Pescara vediamo su questo articolo il contributo video di Alfredo Primato ad incastrarlo sono state le telecamere di videosorveglianza che mostrano chiaramente il tentativo di rapina anche grazie all'usilio di queste immagini i carabinieri di Pescara hanno arrestato un 35enne di Lanciano accusato di tentata rapina al supermercato Todis di Viale Amendola a San Buceto in provincia di Chieti l'uomo avvolto scoperto ed armato di taglierino in prossimità della chiusura del negozio verso le 19 ha minacciato la cassiera per farsi consegnare il denaro provento della giornata la ragazza però coraggiosamente si è rifiutata di eseguire quanto richiesto dal malvivente che visto sfumare il colpo si è dato alla fuga a mani vuote particolare il modus operandi il 35enne ha parcheggiato l'auto davanti l'esercizio commerciale ed incurante delle telecamere avvolto scoperto è entrato nel supermercato arma in pugno assieme alle immagini delle telecamere a circuito chiuso fondamentale è stata la testimonianza della cassiera che ha descritto sia la persona che l'auto con la quale ha tentato il colpo le ricerche sono scattate immediatamente nel giro di un paio d'ore l'uomo è stato trovato nel parcheggio del Lidl di Via Tirino a Pescara fermato e perquisito è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina soldi in contanti lama aperta occultato nel vano portaoggetti dello sportello lato guida l'uomo ormai scoperto ha messo subito ai militari le proprie responsabilità e dunque è stato arrestato e portato nel carcere di San Donato ed ancora vediamo sgomberato il bivacco alla stazione blitz della polizia lunedì sera dopo il summit dei giorni scorsi in prefettura una trentina di senza tetto affidati alla Caritas siamo ancora nel Pescarese l'operazione sarà ripetuta nelle prossime notti con l'aiuto della Celere fino alla completa bonifica dei marciapiedi Montesilvano code e caos proroga di 15 giorni per l'Atari ed ancora marineria dopo il fermo il maltempo poco pesce fresco al mercato e tutti a tavola Montesilvano bio e a chilometri zero il menù delle menze scolastiche prima pagina dedicata a Chieti braccio di ferro per la piscina minacciata da una maxi causa vediamo che la Teat Splashing reagisce all'avviso di sfratto il comune ci deve un milione di primi punta sull'affidamento a Teat Servizi appunto in nodo del personale buone azioni la pescheria restaurata grazie al Sorop Timitz è tra gli angoli più belli di Chieti ieri l'inaugurazione dopo i lavori durati i mesi vediamo ancora genti premiati alla festa di San Michele il congedo del questore la mobilitazione ancora a sindacati a Roma contro il taglio delle prefetture crolla il palco del concerto feriti sei coristi paura l'altra sera durante l'esibizione del gruppo warm up nuovi dubbi sulle condizioni del cortile di Palazzo Davalos vediamo in breve a Rielli sigilli al depuratore denunciati in tre Ortona giunta ad Ottavio ecco le deleghe Lanciano bando di Ferragosto maggioranza divisa a San Salvo pestato a morte fermato l'amico la vittima un romeno di 46 anni in un connazionale è sospettato dell'omicidio Lanciano furti d'auto in nove a processo ed ancora prima pagina dedicata a Teramo Pepe salvare la costa dall'erosione tutelare l'economia legata al turismo è l'obiettivo primario previsti i progetti anche per il ripascimento delle spiagge Piccioni e Camaioni sindaci di Alba Adriatica e Martinsicuro hanno visioni opposte sugli interventi e vanno allo scontro quindi l'assessore regionale interviene a difesa del litorale Teramano un milione di euro per opere urgenti a sud di Villa Rosa e vediamo in breve Giulia Nova Silvia Di Gregorio si dimette in consiglio entra Alberto Di Giulio Tribunale minacce di morte alla compagna della figlia padre sotto processo dall'uomo 54enne e anche insulti di stampo sessista i fatti due anni fa in un centro della provincia Giulia Nova mercato itico Scampidoro ripresa la pesca dopo il fermo asta a voce per un problema di connessione con la banca ed ancora novembre la riapertura la riapertura della piscina in attesa della gestione vediamo ancora avanti vediamo la pagina la pagina sportiva quindi Abruzzo Sport dal messaggero Oddo sono sereno il Pescara cresce la beffa di Vicenza dobbiamo restare sempre concentrati Cocco è determinante la vetta si allontana è un torneo lungo il campo desidera se siamo dai deciderà scusate se siamo da primi posti e questo è quanto ha dichiarato appunto il tecnico del Pescara su questo articolo vediamo il contributo video e quindi quanto dichiarato dal tecnico Oddo confermo che secondo me è stata una partita non giocata come le altre ma più che altro dal punto di vista mentale sono venute a mancare tutte quelle che sono state le nostre qualità fino a questo momento quanto meno nel primo tempo il coraggio il possesso palla finalizzato all'andare in avanti la personalità anche un po' di gamba perché arrivavano sempre prima di noi questo probabilmente è dovuto anche a in parte alle tre partite di una settimana ma diciamo che le avevano giocate anche loro quindi non credo tanto in queste cose qua ci sta è capitato ero particolarmente arrabbiato per questo ma non per altro poi in tutto come sempre in tutte le partite sono anche i lati positivi che ci sono stati anche a Vicenza come la reazione della squadra nonostante non aver giocato come al solito abbiamo comunque costruito come al solito diverse palle e gole anche nel primo soprattutto nel primo tempo quando abbiamo giocato male e nel secondo tempo invece abbiamo fatto abbiamo fatto meglio c'è stata una reazione importante e comunque c'è stato un pareggio in un campo difficile tutte queste problematiche attorno a Cocco sinceramente io non le vedo non le vedo assolutamente nel senso che chiunque capisce un minimo di pallone sa ed è cosciente del fatto che Cocco sicuramente non è al 100% ma è un giocatore in questo caso nel fondo è essenziale perché se non fa con lui manda in gol gli altri ma al di là del fatto se c'è o non c'è rigore è una una cosa che in quel momento della partita non si deve fare però succede succede anche ai più grandi quindi non è che lui per caratteristiche è un ragazzo che ha questa irruenza ma poi l'esperienza non te la insegna nessuno la fai sul campo e lui è consapevole del fatto che ha sbagliato e va bene così trovo molto più gravi altre cose ancora sport in centro pagina calcio di Lega Pro Teramo vuole battere l'Ancona per annullare la penalizzazione l'Aquila il ricorso è ancora in bilico si riflette sulla convenienza dell'impugnativa sulla sentenza della Corte Federale d'Appello ed ancora torniamo in serie B quindi da Versa voglio che la mia Virtus sia più cinica l'allenatore scuote la sua squadra appena ottenuta la qualifica UEFA Pro e Coverciano e ha parole di stima per Vivarini e Castori e con la notizia della Virtus e quindi con la pagina sportiva termina la nostra rassegna stampa quindi termina qui l'appuntamento con Mattino 6 grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata grazie per la visione grazie per la visione